Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta con ricotta, guanciale e noci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, ricotta, parmigiano grattugiato, uova, guanciale a pezzetti, olio, noci, granella di noci, pepe e sale. Andiamo via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'olio, il guanciale ed azionare il bimbi per tre minuti, 120 gradi, velocità soft. Aggiungere la ricotta, la granella di noci, le noci, un pizzico di sale, un pizzico di pepe e il parmigiano. ed azionare il bimbi per cinque minuti, 80 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti, senza temperatura, antiorario, velocità 1. Condire la pasta e servire. Pasta con ricotta, guanciale e noci. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!